Roberto Giacobbo a Villetta Barrea è un'occasione di quelle da non perdere. Se poi il tema della sua presenza è la presentazione della sua ultima opera, da dove veniamo, la storia che ci manca, lo è ancora di più. L'evento, andato in scena nel Centro Operativo Servizio Educazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha avuto un considerevole successo sia per il richiamo del noto conduttore televisivo, sia per un tema, il mistero in ambito storico, che riesce sempre a mettere interessi. Tanto mi fa piacere essere qui. Io sono un innamorato dell'Abruzzo e non perché ci sono nato, ma perché mi sono innamorato in età adulta. E quindi venire qui per me è sempre un piacere. E sono qui per parlare di questa avventura, di una ricerca che ho cominciato a fare tempo fa, che è sfociata poi in un libro, mi sembra il dodicesimo, tredicesimo che ho fatto, e che parla poi delle nostre origini, delle nostre possibili origini, cioè di un ciclo di vita nella Terra precedente a quello che conosciamo. Infatti il primo titolo è Da dove veniamo, sottotitolo La storia che ci manca, attraverso una serie di fotografie, di immagini che vedremo qua insieme, e veramente suggestive, di oggetti che non dovrebbero esistere, ma che esistono, perché in quel tempo l'uomo non era sulla Terra, perlomeno quando sono stati datati. Quindi è estremamente affascinante, estremamente divertente, divertente per la mente, cioè si può divertire la mente e cercare di mettere dei contenuti nella voglia di scoperta, di conoscenza, che è giusto che i giovani abbiano. Un interesse condiviso da grandi e soprattutto piccini, con questi ultimi, a pendere letteralmente dalle labbra del conduttore di Voyager per tutto il corso dell'evento, assediandolo poi a caccia di autografi e risposte. Un successo dunque in piena regola con l'Archeoclub di Villetta Barrea, ancora una volta protagonista in positivo. Noi vogliamo oggi, con la presenza appunto di Roberto Giacobbo, cercare di capire quale potrebbe essere un'altra storia. E per noi dell'Archeoclub di Villetta Barrea è sicuramente una giornata molto importante, probabilmente la più importante che abbiamo organizzato in questi due anni di attività sociale. Villetta Barrea che si conferma al top dal punto di vista culturale, iniziative. Questa iniziativa come è nata e qual è la finalità? Vediamo che ci sono tanti bambini. Allora, l'Archeoclub di Villetta Barrea, devo fare una premessa perché altrimenti si potrebbe non capire il senso. L'Archeoclub di Villetta Barrea nasce nel luglio del 2011, grazie all'iniziativa di 15 ragazzi del posto che hanno preso a cuore la cultura e le tradizioni locali. Da quel momento possiamo dire di non esserci mai fermati, per cui non potevamo mancare ad un appuntamento così importante che si celebra a livello nazionale, quale è il Maggio dei Libri. Ci sono tanti bambini per due motivi, perché noi dell'Archeoclub di Villetta organizziamo dei laboratori extrascolastici di archeologia e molti di loro che voi vedete oggi vengono direttamente da Sulmona, dall'Istituto Comprensivo Serafini di Stefano, che è un socio del nostro Archeoclub di Villetta Barrea. Quindi stiamo estendendo la partecipazione alla nostra associazione, ben oltre i confini dell'Alto Sangro. Un'iniziativa a cui ha contribuito anche per la RAI il consigliere Rodolfo De Laurentis, sempre molto vicino all'Alto Sangro. La RAI come servizio pubblico deve seguire tutte le iniziative dei differenti territori e credo che il senso del servizio pubblico sia proprio quello di accompagnare, di raccontare la storia, le iniziative, le tradizioni, cioè di raccontare quello che c'è di bello, quel tanto che c'è di bello nella nostra regione e che può rendere ancora più fruibile i nostri territori e rinnovare un'attenzione che forse da troppo tempo manca. Io semino tante prove, tante ipotesi, tante suggestioni, ma mi permetto un grande lusso di non imporre una risposta, cioè di trattare chi legge il libro come io vorrei essere trattato, nel senso non voglio che nessuno mi imponga la sua risposta, ma voglio dare tutti gli elementi in modo che ognuno si possa ricavare la propria risposta.